Sarà per Camuccia una domenica interamente dedicata allo shopping, alle degustazioni, alla solidarietà e al volontariato. Il 20 maggio doppio appuntamento con Camuccia in fiera e giornata del volontariato. Gli ingredienti ormai sono quelli classici e tradizionali della fiera, uniti in connubio con la promozione e la valorizzazione delle associazioni di volontariato del territorio. In particolare per tutti coloro che vorranno venire a Camuccia c'è un'ampia promozione dei prodotti tipici del territorio e presenza di numerosi espositori, non solo ambulanti ma anche florvivaisti, artigiani, obbisti del territorio. Poi in particolare quest'anno Camuccia la richiamo di due esperienze. Uno è negozi in vetrina, in particolare in piazza Sergardi ci saranno una serie di attività commerciali, di estetiste e di parrucchiere che presenteranno le loro ultime novità sia nel settore dei trattamenti estetici che delle acconciature per il periodo estivo oppure nel settore dell'abbigliamento moda. E poi una sinergia importante che vogliamo rinnovare anche in questa occasione è quella con l'Isisvegni. Infatti per l'intera giornata saranno presenti con degli stand espositivi e informativi e soprattutto durante il pomeriggio dalle 16 fino alle ore 18 presenteranno dei veri e propri cooking show con i prodotti che si potranno acquistare in fiera e quindi gli studenti del Begni proporranno una serie di degustazioni e di prodotti all'insegna della tipicità. Appuntamento allora domenica 20 maggio, a partire da che ore? A partire dalle 9 fino alle ore 20 per un'iniziativa promossa da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Cortona, della Camera di Commercio e il contributo della Banca Popolare di Cortona. Tutte le iniziative che vanno ad aiutare, a facilitare, a rendere più vivo Camuccia sono iniziative che la Banca Popolare di Cortona non può scartare. Noi siamo nati e cresciuti in quel territorio e ci vogliamo sempre essere. Questa è un'ottima opportunità sia per tutta la cittadinanza che per tutti gli operatori economici, specialmente in questo periodo di crisi.